Caster game Si comincia Pazzesco La chat La chat o no? Ok Ok, perfetto Ok, Wolf e Inkling Vediamo cosa possiamo apprendere Da questo match up Ma poco Secondo me poco e niente Secondo chi vince? Ma io Considerando che il set record lifetime è tipo 10-1 Punterei sul porcone, onestamente L'ultima volta però il weekly ha vinto Enzo Eh, lo sai È tipo la prima cartina È degli infami È vero, la si mangia e la si sputa Esatto A me è un classico Porcone di mostra che ha labbato Non è vero Non ha labbato per un bel caso di niente Assolutamente no Ma poco mai Guarda come usa però la dash di Inkling per evitare La dash broker di Inkling diciamo Per evitare le mosse di Enzo Bravo allora con la roll Passa il whiffer per terra Eh sì Spazza un po' E vediamolo viene Ok Enzo Riesce ad atterrare Finora molto hit Comunque ho notato che cliccare contro hitting Dopo tipo Il primo hit dopo la throw È una buona opzione Cioè dipende cosa fai Anche perché non è che ha chissà che hitbox grandi Quindi per contestare tipo tutto è qua Enzo chiuderà la storia E fai il turbo team bag senza turbo Un po' diesel questo turbo team bag Comunque Vediamo la grappa Il porcone giudica la solo La tua performance Il talento vince Qua Perry up smash Per flexare passa lo whiffer per terra sull'edge Enzo quasi fa reversare Qua si fa reversare Enzo piace a tornare Vediamo Ciao Ben È Ben È arrivato Guarda Enzo come si muove attorno all'avversario Mamma mia Qua salta Il porcone salta con la filter Evita la filter di War Pazzesco Interazioni maustruose Qua Enzo però sembra che aveva un po' tutto Quale timing in questo momento Sì lui ha studiato Sì ha studiato Non essere Bagliaccio possibile Qua veramente il talento non ha vinto No vabbè ma io nemmeno ci ho fatto cazzo Siamo così tanto abituati Ormai io ho volto Vabbè Vediamo Il numero è un po' di grande Eh vabbè L'EFTILT della nonna questo Sì sì veramente Il fessi della nonna Del cuginetto Che gli dicono Fai EFTILT Come si fa EFTILT Qua il porcone sbaglia Ma anche Enzo Oh finisce la granata Niente non riesce Qualcone doveva chiuderla a stocca in quel momento Niente riesce Backthrow Sì E muore a 136 È brutto space Quindi vince qua Sì E diciamolo questo E qua ma lo sa anche lui Ha sbagliato Dobbio a tilt Backhair Ah quale Il porcone dovrebbe implementare le combo Dall'EFTILT sulla piattaforma Eh vabbè La stai chiedendo veramente Il porcone troppo è mica di salvare il pianeta Per poter labbare queste cose Scusi Paremmo un sacco rire Jab 1, Jab 2 Scendi e poi è nullo in Fidissimo Fidissimo Il porcone lo deve inventare Eh ma il pianeta mica ti salva da solo È vero Un altro lo profile Questa è lo profile the match Il parry Il parry inutile Vabbè sì Siamo amatuati Smash Ultimate Metà dei parry che fai sponze Pugnere Devi aspettare oppure Oh sì Gli shoto nel top tip Oppure non saprà niente Oh guarda il porcone però Comunque il boom Ti riesce a tornare a 162 Wolf non kill Il cosplay vince È molto invece Guarda qua Il figlio non kill Con la backthrow non stallata Si killa Ricordiamo Però 102% di extra credit Per il porcone Vinge Ah sto in salita Qua Bella in salita Deve inseguire Deve cerisare Deve Oh però Di mezzo alle distanze Attenzione Si piglia la bomba in testa Come un pagliaccio Qual è Un link qualunque Lo spacing della nonna Qua Qua left tilt Non è della nonna Ma questa dovessera È dello zoomer Del nipote Non della nonna Tensione Qua Porca Brava a coprire Però è ancora lontano Dal killare Devo dire Inkling sappiamo Le difficoltà che ha Mentre Wolf Quando vuole Può Quando desidera Si 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 deve volermi Anche per sbaglio Si magari Un backhair Miss clickato Potrebbe portare Alla stop Qua per Minjag Però sta Fly Margo back Un bel Corsa a simerci Eh si Sarebbe pazzesco Oh Poi non mette La Gentleman Di Inkling È pazzesco Il polcone Però non si può Giustare gli occhiali Eh no Perché non riesce A killare Qua il polcone Enzo Invece deve chiuderla Qua il polcone Tiene scudo Ok Wolf È un po' Una pyra De Freddy LC Una pyra Beh Non è un po' Pi safe Non è un po' No no Tipo mentre ti fa la pressure La legge Di vai Ti fa tutto Sì 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 Ti cagano a terra No l'ha recuperato tutto Eh vabbè Enzo ma che fai Enzo Era una buona idea Beh sì Però si è buttato Stai cimari Ma comunque Riesce a rientrare Ed è ancora Due minuti Rimasti Su questo game Attenzione Il polcone Prova La grab Non entra Poteva fare Jab 1 Jab 2 E Don't love Grab È stato assurdo È il fail La chiude Enzo Ed Enzo La gioca Devo quasi Un cammè Enzo è tornato He's back He's back È ancora non bannato Comunque Riesce a resistere Ancora questo mese Ha una streak Senza urla Dal ben due mesi No vabbè Qualche volta Al week Insomma Vabbè Senza scleri Troppo seggiorno Esatto È nel suo Redemption arc In questo momento Per quanto si bozza Avere una retenzione Un uomo come Vincenzo Diciamolo Però ci sta provando Noi apprezziamo L'impegno Al tomare Smash E noi lo premiamo E lo premiamo Perché l'impegno E qui diamo Questo primo legge Di votare Il loro partecipale Dopo una campagna Intrata a due notti Intere Per farlo sbannare Dalla tirannia Di Dani Siamo riusciti Ed ancora La nostra scelta Di farlo sbannare Ancora Sembra buona Mi sa se poi Avrà ragione Invece Dani A voler non venire Io l'avevo letto Io l'avevo letto Ragazzi Dopo che Quella vecchietta Avrà avuto Quell'incidente mortale A causa di Vicenzo Che continua a provare Questi down smash Ma non entrano E si fa incare Il porcone però Si sistema gli occhiali Vuol dire che c'è qualcosa Di diverso Nell'aria Eh sì Il punto vocale È attivo In questo momento Per il porcone Che è stato Dove andare a mirare Le sue mosse Come fey Il fey di falco Va mirato Con me Te lo ricordo Questo meno Lo diceva Quello con nero Sì Certo Un video Quando brugnero Era un falco main Altri tempi Altri tempi Veramente Quando si stava Io quando si stava Peggio Assolutamente In due stagioni Ragazzi No Se lo dicevolo I treni arrivavano Sempre in orario No Quello un po' Prima Succedente Sì Ma io pensavo Quell'incidessero Intanto qua Il bacio attack L'ha chiusa Ebbene sì Allora dove si fa Rubare Vincere Attenzione a 105 Come la radio Adesso 119 E l'ha chiusa 0% su porc Niente È caduto Nel punto peggiore Comunque Vediamo Vediamo Qua comunque Belli iverne Questi game Sia il primo Che il secondo Finora Vediamo Sì Però devono essere Entrambi Più concentrati Cioè Porcchè di Non intanto Fa il grappo a caso Da baccarino Eh sì Non c'è giocare In Dambi Tutti e due Facci il mio Il primo Il primo Il primo Che è noia No ha perso Fabio Ci posso credere Va bene Il talento Sì Merda Che invidia Allora Oh che perry L'hai visto L'hai visto Scritto La prossima volta che Esatto Ragazzi Noi siamo contrari Alla violenza Sì Sempre Esclusa sui World2Made Giustamente Ma nel videogame Nel videogame Noi siamo pro Alla violenza del videogame Sempre siamo dato il videogame E mai nella vita vera In cui la violenza È estremamente sconsa Esatto Ed ecco perché Esiste i videogame Per poter Risolvere le faide Che ci sono Tra le persone E tu mi dici E tu tipi l'Inter E io Milan Vaffanculo Invece di picchiarsi Ti fate a smash Fate 1v1 E ragazzi Il risultato del prossimo È molto più facilmente E comunque Stasera il derby Lo diceva Il Milan Ricordiamo C'è il derby stasera Certo Io metto insieme L'intero Il derby Siamo a mettere L'inzi dell'Inter Per gufare l'Inter Comunque Merda No per gufare l'Inter Eh sì Comunque Guarda qua Cosa guardo Updive Ma non mi pare Una cosa Tanto emozionante Updive Un libro Bella pair No no Bella pair No è successo È successo Interridevo Comunque Vediamo il down smash Del Dinger Lo so Che lo provava E si prende una bombetta In testa Vediamo Allora Lending Nair Deve cambiare Porche qua Comunque Io a Vincenzo Gli consiglio Seriamente Di usare Link Così Vuole andare Di Nair All'infinito Tranquillamente Sarebbe Sarebbe Da provare Perché dice Wolf non kill Link quantomeno Che non è Dilt Una slap Sì Però nel tempo che lo fai Inkling Infatti Lo sai perché Non lo dire I Wolf main Non lo sanno Che loro Perfetto Ok O qua Il porcone ha indovinato Molte opzioni di kill Intanto Sto capendo un po' le cose Però è a 146 Io l'ho visto È bella Bella È piaciuta È bella Andiamo a giocare Andiamo a giocare Cambio casser Forza parere Che pettino Con chi è? Con Dan Con Dan Ok raga Gia Sono arrivati caster Baianetta Allora il 26 C'è Palermo Allora intanto Dobbiamo aggiornare Ah sono 1 a 1 Ho vinto Vincenzo Che ne dici? Cioè che pensi Su chi lo vince Questo match up È strano Perché Io penso che sei di Wolf Tipo a mani basso Sì è probabile Ma prima di altro Inkling in generale Difficoltà Ammazzare Sì Mentre Wolf Ti cancella Wolf appena ti tocca Sì Diciamo che Wolf Se vuoi fare una scazzottata Wolf è tosto Perché Ecco Ha fatto 55 Ma picc'altro Inkling è un po' un pg Però anche Inkling Sì È molto forte Fa molta percentuale Però è che la sta poi Quando devi utilizzare Però poi non kill È il contrario Di personaggi meta di oro Cioè Di personaggi meta di oro Ti colpiscono Ti fanno 2 milioni E poi però Ti killano con l'era E basta Se fanno quello Invece gli ultimi Ti fa tanta percentuale E poi rimane là A guardarti Sì È vero A meno che non becca La finestra Della grab Sì sì La buia La famosissima Cioè Avevo la chart Ora non ce ne sono Porca Sì Anche Porca C'è l'ha Ogni inizio match Se lo controllo È vero Porca Sì sì Lui li sa A memoria Però comunque Io ho visto Degli spazi Da dietro Il primo game Assolutamente Il secondo Già vincendo Si è ripreso Ora sembra Stare dominando Sì Sì Considerando che Ok è 80 Però meno che Non riprendono F smash Non killa Per un po' Ancora Sì infatti Wolf non killa Perché un king A 163% E tra l'altro Tutti i due frame Sono opportunità Di killare Sì Bello Che killa di Apeir Non è frequente Sì Era un po' disperato Ma ha fatto bene Invece Inkling Che sicuramente Ancora deve lavorare Non gli avrà la prima stock Non c'è qualche Edgarding Il edge drafting Pi' forte del gioco Sì Non puoi fare un cazzo Perché non l'ha punito bene Cioè era l'occasione Che Bayer Totalmente Al bordo Non killa 150 Quando Vabbè ma Un killa niente Solo l'Apeir Tutti i setup Con Con Il Sì 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 Praticamente Vediamo Che cosa va Niente Non va niente Ho provato la spike Fa un Apeir Po' che deve provare Questi Apeir Disperati Per poter fare qualcosa Oltremente Un buon casino Vediamo Situazione È abbastanza even Secondo me Perché comunque Lui è 11 Quindi tutte le combo Sono ancora true Quindi vorrei recuperare Percentuale In realtà Po' che può farcela Cioè non è impossibile Questa è una bella punch Dove essere bella Ma Vincenzo sta facendo Un po' tanti 6D Che al momento Non sono stati puniti Però deve stare attenti Sì Soprattutto perché Se lo legge Fa down smash Su 6D Se ne va Comunque L'ha recuperata La sto credendo Sì Sì Ha recuperato Praticamente Il vantaggio Però La stessa situazione Potrebbe Caffè no Non conviene Fare nail Perché comunque Si mette sotto lo stage Però se lo becca Senza tanto Quel nail Dovrebbe kill Lascia attacca Lancia La splatform Sto desci attacca Il desci attacca Di wolf Ha tipo 4 hitbox Diverse E ti killano In 4 modi diversi Verso l'alto Lateralmente Rockhand A long Che è assolutamente Può Mi ha tentato La cliccata Di up smash Comunque funziona Secondo me No ma in realtà È un buco nero Sì Assolutamente Quindi per funzionare funziona Io penso che è backthrow kill Da qualsiasi parco Ormai No lo frega L'ha preso con un piede fantasma Pro Fortnite Perché non me lo spiego Sto danni Sto danni Sta missando Delle combo Che di solito non cessa Che fa? Perché non prende No La cosa meno forte Che aveva Ma secondo me Non se l'aspettava Figato l'ha fatto Un po' per disperazione Ah Tower's bolt È bravo perché riesce a tenersi a stop sempre tra l'ultimo Sì certo perché sono tutti È morto È morto È morto È morto Dica che mesci Ma veramente Mesci in più crisi Io sarei morto Anche io Tranquillamente Ok 212 Va bene Va bene Stesso discorso di prima Vediamo Ancora non si può sapere Ancora è presto Potrebbero ritornare even in due colpi Esatto No peccato Questa la pancia Allora Aspettava l'air doge A quel moto No Beh Beh che non Cioè doveva dare per scontato Che quel fail colpisse Secondo me Sì non ci ha creduto Spero Non ci ha creduto Anche no L'ha preso Veramente Ci doveva credere anche lui Con l'up smash Ma ha provato l'up fair Per una questione Di rimanere safe Ci sta Giusto Se no se tap Oh no È stato preso Dalla bomba Fair Ed è 2-1 Capito Ah mince Ho distratto in seconda D'è uno per forche L'aveva strappato No Se a Vincenzo Non si incazza troppo Anche se dalla player cam Mi sembra che sia un po' Nervosetto Eh vabbè La pazienza È di me Però Ma tu hai visto quel set Di Vincenzo Cominato C'era una mia statizia Che scastavamo La statizia Comincia a fare tutti Ah sì sì Incredibile Bellissima FD Ok Gli A4 È un Cosa Io non me l'aspettavo Soprattutto perchè Wolf comunque è giova Delle piattaforme Sì Secondo me Vuole sfruttare di più La mobilitaria Di Wolf E quindi magari In questo modo Non ha paure Per spendere Dalle piattaforme Non so che tipo I ragionamenti abbia fatto O forse magari Per le combo Io nemmai Anche se non credo In realtà Le piattaforme Ma in realtà No Secondo me È proprio una scelta O per tenerlo Più distante Difficilmente O Non lo so È un po' Ispiegabile Però ci può stare Se a lui piace Sì sì Poi alla fine È abbastanza progettiva Ok Vediamo questo Beccane La Splat Bomb Il movimento Si è preso Un Glimpunch Bravo Counter A Pericolosi Stamosset Così stupida Ma così forte Però in realtà È molto prevenibile Sì Sì Anche perché Ci sono a percentuale Comunce ad avere Spautura Nel senso Inkling Probabilmente Per usarli In maniera efficace Usare o per copirti Un landing Pruttissimo Che stai facendo Può leggerti qualche Sì Ma non è semplice Da piazzare In realtà Ma non ci sono Delle dinamiche Inkling Secondo me È un main Inkling Saga Inkling Sì Certo Ma hai 76 Down Guarda mia Questo Un vantaggio È assurdo Un vantaggio Assurdo Vediamo Betro Bello 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 Sì Bravo Con il Nair È giusto Giusto però Ho capito Perché quel Nair Lì Comunque Potrebbe anche Killato Secondo me Dovrebbe cercare Anche più Due frame Con il Down tilt Per rendere facilmente Ok che non Killa Però Forse Lo Tiene più Facilmente Ah E' Tilt 150 Kill Dai Al bordo Vabbè Dico Qualcosina Ha spaziato male Ha spaziato malissimo Il bait Sì perché È meno due Meno due Non ti fai niente Porca Sì è incredibile Anche il bait La stanza Sei Sì Una Un piede Eh Sono un danni Troppo addosso Io recupero Un 50% Entrambi Sto lo picchiando In maniera uguale Oh C'è una stocca di differenza Letteralmente Stanno camminando Di per i pazzo Si colpiscono Contemporaneamente Eh questo Sei Dio È un po' Pazzerello Vediamo Lascia Attack Lascia Unchiostri Il pavimento Nel tempo Vincenzo Cerchiamo Ovviamente Di Forse Per il Laser Cioè Per la Pistola Voleva Tenerla Proprio Sì Sì È l'unico Modo Per cui Può Cegliere Qua È La E Che Lo Devo uscire Non è la Veranda Questa Lossa Ormai La percentuale Sì Ma Perché Non è Sbloccare No Ma Penso Non Te lo Aspetta Sbloccare Oddio Si è abbassato L'ha preso 55 Di Da Un Tilt Pancake 150 Di Da Un Tilt Mamma Gli ha Recuperato Tutto È Anche Invantaggio Invantaggio Di Per Certo Psicologicamente Secondo Oltre Volco Non Sei mai Sblocato Lai Sta Ficcendo Strambo Strambo È Morto Ok No Sbagliato Quindi Vedi Poco Qua Sarebbe Uscito No Se 2-2 Game 5 Secondo Me Ha Provato Un Feb Vabbè Mi sentava Un set Tipo Iper La Sotella Vite E Sizz Ha Vinto Contro RDR Esatto No Ma Sizz Ha Forse Con Lore Quindi Magari Diciamo Un po Fuori Forma Sizz Mezzo Vai Game 5 Conk Vincenzo La sta Gioando Bene In realtà Io non mi Aspettavo Che fosse Così Un Cattato Nero Esatto Si ritorna Su FD Chissà Se è questo Nervosismo Ah Vabbè Infatti Ha riconfermato Porca Lo stage Ah Lui Allora L'aveva scelto No L'aveva scelto Vincenzo Però giustamente Ha visto che è andata bene Ma tanto Si Ha perso Porca E quindi Ora Sceglie Lui Lo stage Ma Perché Ha sbagliato Era un altro Combo Grabo Into AirDodge Giusto Giusto Deve spaziarlo Ecco Bravissimo Che comunque All'interno di una partita Se ne Piazzi Sei Sono 60 Di percentuale Che tu hai guadagnato Senza fare un calzo No 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 Però se fa scollava Probabilmente Non poteva punirlo Lo stesso No Non c'è Minchia Ecco Qua vedi Poi ti diciamo Prima Quella scrow E manigna E serve proprio Ma è morto No Ma sta sbagliando tutto No vabbè Ma era fuori percentuale Di blu È vero che ha fatto Faire Non l'avrebbe preso A prescindere Però Ah Favorosissimo Quel cazzo Era girato No Da un smash Credo sia più veloce Non mi ricordo Però credo sia Il smash è tipo Frame 5 Di Wolf No 5 è possibile Di più Minchia È la tech È la tech De Jesus La tech De Jesus Incredibile Ma fantastica Proprio i video motivazionali Tipo Sì Assur È il secondo Tech De Jesus È il terzo Tech De Jesus Cioè a quel punto Io ti do il game Dopo che mi techi Tutte quelle cose Diciamo basta Hai vinto Te lo merito Scusa Era la tua Esatto No Era il regrab Era stop Il down smash Frame 14 Ah 14 Pensavo molto meno Perché sembra istantaneo Il down smash di dark pit Invece è frame 4 È l'app smash 5 L'app smash 5 Sì 5 Ok È lo smash più veloce Autosheed E' velocissimo Però non connette Un cazzo Vabbè Faccacare Vabbè Pid poverino Sì Anche se anche quello Ogni tanto Tipo esci Dalla pit Mesh Penso potere Certo dai Proprio a scatti Pure a voi Si parla solo del game Non dell'album Nel senso Il game a scatti Oh no E controlleremo Se è un problema Ricorrente Attualmente Sembra il gioco Vabbè Noi la vediamo Noi la vediamo Bene Però non lo so Chat Dateci conferma Mica Ha sbagliato Fairbair Peccato perché Era importantissimo Ok Ottima Backthrow Percentuale uguale Un po' troppo E' fsmash Vabbè Tanto sono safe Quindi Sti cazzi Sì Va bene È un po' come quello Di metanite Lo provo Infatti Dai È morto Che ha fatto Stanno sbagliando entrambi Stanno panicando Ma ha funzionato Alla fine Ti è spaziato male Porca Lascia attack Che non È stato strano Questo perché Il dash attack Di solito Ma andrà Trova pain Eh se la prende lui Se la prende lui Perché non era più Qui Vediamo adesso Qua adesso è chi mantiene Più la calda Qua è un po' di potenza Si qua Si qua Ecco si Ottima nerd Porca sta facendo solo Up tilt Perché è l'unica Mostra che sta funzionando Per qualche motivo Si In che posizione Tu falli Qua doveva provare Per fare il drive Ok Sempre molto even Comunque come senso Sì Sì Però Vincenzo sta dimenticando una cosa Che deve tenerlo lontano È morto Non lo prendo Però non muore Non muore perché Troppo poca rage E quello non aveva percentuale Ma non Minchia se lo stava prendendo Grande Bella bella Questa bella Importantissima E vince 3 a 2 3 a 2 Per Vincenzo Me l'aspettavo Bravissimo Il porca Si